Adesso vai esattamente l'incontro, invece di tirare e spingi. Ma spingo da qua? Testa dritta o? Così potrai lavorare lateralmente, vediamo. E se ti dà questo? Se mi metto così, no. Se mi allargo, sì. Però stretto stai comodo, no? Stretto. In realtà se mi metto così. Quindi prendo il braccio. Un braccio con una mano e l'altro va in contrasto. Questo è giusto che il contrasto già pierdo ogni volta. ... Grazie a tutti